Ciao, in questo video parliamo della famosa gobetta, quindi il dorso curvo in avanti oppure ipercifosi, chiamiamolo come vogliamo, però parliamo proprio del dorso curvo in avanti. Quindi se vuoi migliorare il tuo stato di benessere generale ti consiglio di iscriverti al nostro canale e di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su tutti i nostri nuovi video. Partiamo con questo video, dunque le motivazioni per cui si va a creare questa situazione di dorso curvo in avanti possono essere principalmente due. La prima è una situazione congenita, cioè quindi ci sono queste persone che già dalla nascita sviluppano questa postura e che poi con la progressione della vita può aumentare, può peggiorare oppure può migliorare, perché ovviamente a seconda dello stile di vita che abbiamo durante il corso della nostra vita possiamo andare ad influenzare la nostra postura verso un miglioramento o verso un peggioramento. La seconda condizione per cui si va ad instaurare questa posizione del dorso curvo in avanti è quella di una posizione seduta o comunque una posizione appunto di anteposizione delle spalle, di posizione un po' curva mantenuta per tante ore e tanto tempo durante la nostra giornata. Infatti in questo periodo storico la maggior parte delle persone lavorano da sedute, quindi se si passano 8, 9 o addirittura 10, 12 ore da seduti in avanti è molto probabile che si vada ad instaurare una postura con le spalle chiuse in avanti, il dorso curvo o anche il collo anteposto in avanti. Quindi in entrambi i casi si può andare a lavorare per migliorare se non altro la sintomatologia dolorosa data dal dorso curvo in avanti. Infatti ci sono alcune persone che per questa condizione posturale hanno anche del dolore e altre persone invece che non hanno dolore e che vogliono solo migliorare la postura. Le persone però che ce l'hanno dalla nascita questa condizione riusciranno più che altro a risolvere il dolore se ce l'hanno, quindi allungare i muscoli, renderli un po' più forti e un po' meno rigidi e a migliorare appunto questa condizione dolorosa. Perché è difficile che se si ha una condizione come questa dalla nascita si vada anche con l'esercizio a migliorare la postura perché appunto l'abbiamo dalla nascita quindi è dura poi andarla a togliere. Invece le persone che ce l'hanno anche da un po' più di tempo ma ce l'hanno perché hanno condotto una vita con molte ore, quindi passando molte ore con le spalle chiusi in avanti, il dorso curvo in avanti, in queste condizioni qui si può invece andare addirittura a migliorare la postura, quindi andare a stabilizzare le scapole, migliorare l'apertura delle spalle, migliorare la postura del collo e quindi recuperare quella che è una postura corretta e anche più bella da vedere. In che modo possiamo andare a migliorare quindi questa postura? Innanzitutto il mio consiglio è di cercare di evitare ovviamente le posizioni in chiusura mantenute per molte ore, quindi se fai un lavoro da seduto per esempio e devi stare dieci ore al computer il mio consiglio non è di cercare di stare dieci ore dritto perché è praticamente impossibile ma gli studi dicono che bisogna cercare di muoversi ogni poco tempo, quindi ogni poco tempo cerca di estendere bene la schiena, muovere un pochino le scapole, provare a fare dei movimenti anche di rotazione di modo da dare un pochino di elasticità a questi muscoli che invece tendono a diventare rigidi se non li si fa lavorare e ovviamente bisogna cercare di fare degli esercizi per stabilizzare le scapole e migliorare questa condizione del dorso curvo. Quindi adesso ti farò vedere tre esercizi per cominciare a migliorare questa condizione e poi se vorrai potrai scaricare il nostro video corso postura spalle passo dopo passo in cui sarai guidato per migliorare la postura delle spalle delle scapole, del dorso curvo in avanti, del dolore alla base del collo e ovviamente quindi anche andare a migliorare il dolore e la postura in generale. Partiamo con questi tre esercizi. Il primo esercizio è un esercizio di apertura delle spalle quindi proprio per andare a cercare di combattere questa condizione del dorso curvo. Porta le braccia con le dita incrociate verso dietro e va ad inspirare e a spingere posteriormente le mani ok? Vado quindi ad aprire e ad inspirare e a buttare fuori e togliere la tensione con le braccia. Quindi inspiro, porto verso dietro e butto fuori. Inspiro e vado ad aprire bene e butto fuori. Questo è un esercizio molto bello che ti aiuterà ad allungare i muscoli intrarotatori e farti sentire più aperto. Ripeti questo esercizio per nove volte per tre o quattro serie. È importante che quando fai questo esercizio in particolare se hai la condizione di chiusura di dorso curvo dalla nascita tu cerchi di stare sotto la soglia di dolore. Quindi se senti dolore o fastidio importante diminuisci la tensione. Non saltare l'esercizio ma per esempio vai un pochino meno indietro ok? E torni. Poi man mano vedrai che riuscirai anche a aumentare l'intensità. Il secondo esercizio è sempre un esercizio per portare in apertura le spalle ed allungare i muscoli che ruotano internamente la spalla. Quindi io mi sono messo seduto ma puoi fare questo esercizio anche da in piedi. Ti metti vicino al muro e porti il braccio appoggiato al muro. Quindi la parte davanti del braccio è appoggiata, la mano è appoggiata al muro e più sono vicino al muro più sentirò tensione. Più mi allontano e meno ci sarà tensione ok? Quindi mi metti in questa posizione braccio a 90 gradi. Sento la tensione, sento che tira in avanti. Ovviamente se mi ruoto verso avanti diminuirà la tensione quindi cerchiamo di rimanere bene aperti e mantengo questa posizione per 30 secondi. Ok? 30 secondi e lascio. Ripeto questo esercizio per 4 volte. Quindi apertura 90 gradi, 30 secondi, se voglio aumentare ruoto verso fuori e lascio. Benissimo. Il terzo esercizio invece lo puoi fare con l'aiuto di una sedia e serve proprio per andare ad aprire il dorso, diciamolo così, verticalmente. Quindi cercare di togliere la curvatura in avanti. Quindi ti metti in questa posizione, in ginocchio, un po' lontano dalla sedia, con i gomiti appoggiati sulla sedia, ok? Il bacino indietro e vado a inarcare la parte alta della schiena. Quindi attenzione, è importante cercare di lavorare sulla parte alta, che si porta verso il basso e non sulla parte lombare, ok? Non sulla parte bassa ma sulla parte alta. Quindi mi spingo verso il basso e torno su. È molto efficace anche questo esercizio, quindi portati verso il basso, inarca la parte alta della schiena e torni su. Vai, inarchi la parte alta della schiena e torni su. Ripeti questo esercizio per 8 volte per 4 serie. Questi erano 3 esercizi per cominciare a combattere la postura del dorso curvo in avanti. Se vuoi essere seguito tramite un percorso completo per migliorare questa condizione o altre condizioni di postura delle spalle, ti consiglio di scaricare il nostro videocorso cliccando qua sotto perché ci sono un sacco di esercizi, strategie e consigli per andare a migliorare tutte queste condizioni. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto lasciaci un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!